Grazie all'associazione Acto, che è un'associazione che si occupa di patologia neoplastica dell'ovaio, anche l'utenza che è in cura qui nella nostra fondazione potrà lasciare un bigliettino, una foglia sui rami di questo bellissimo albero che possa esprimere un loro parere su quello che debba essere il futuro dell'oncologia che possa puntare non solo alla clinica e alla cura della loro patologia ma anche all'aspetto umano e quindi alla possibilità di migliorare e incrementare il percorso di umanizzazione delle cure.